90.000 più oltre, la South Carolina ha posizionato il ballo perfettamente. Dovevamo bloccarlo, era l'ultima possibilità. Se avessero segnato avrebbero vinto. E noi avremmo perso per la seconda volta e avremmo detto addio sia al campionato della South Eastern Conference che al titolo. E Ryan Suckup, numero 14, avrà un gol di gioco di 48 yard time. Dissi, coach, possiamo bloccarlo sul lato sinistro. Quando si prepararono per il tiro, mi inginocchiai con le mani a terra e iniziai a pregare Dio. Calò il silenzio. Non riuscivo mai a guardare. Fissai per terra e alzai lo sguardo all'ultimo. Fissai per terra e alzai lo sguardo.